Io sono Fra Jaime, sono un fratello spagnolo che da dieci anni lavora nella cura generale insieme con il nostro fratello Charles Alfons e nel segretariato generale della formazione. Oggi ci troviamo qui vicino alla grande città di San Paolo, due ore nel seminario di Santo Antonio qui in un piccolo o grande villaggio che si chiama San Pietro insieme a tutti i frati formatori di questa conferenza brasiliana della CCB e anche ai delegati della giustizia, pace e ecologia. In questo tempo stiamo cercando di aiutare i frati e anche a continuare a animare e verificare come stanno facendo la sua applicazione dei principi della razza al contesto proprio generale di questa cultura. Sempre preoccupati perché il nostro carisma diventa più forte nella unità carismatica ma sempre attenti alla diversità culturale. proprio qui a Brasile è una grandissima, del nord al sud, una grandissima diversità delle culture. Insieme a noi ci sono i delegati della giustizia, pace e ecologia della conferenza anche se sono stati invitati i delegati delle altre conferenze delle Americhe e insieme al nostro fratello Joel, segretario dell'ufficio della giustizia, pace e integrazione del creato e anche qui noi cerchiamo di lavorare insieme perché secondo la nostra sensibilità dobbiamo fare più attenzione all'insegnamento, al Magisterio Ordinario di Papa Francesco tramite le sue encicliche, laudato sì, e anche fratelli tutti. Tutti questi valori che devono essere qualcosa comune per tutti i capuccini non per qualche piccolo gruppo più sensibile, per tutti i capuccini. dobbiamo essere esperti in creare un dialogo con gli altri, costruttori della pace, persone che sanno difendere l'ambiente, preoccupati della cura dell'ambiente, come Papa Francesco ci ha detto, anche con una nuova sensibilità di capire l'economia e i rapporti tra di noi. Speriamo che questo incontro darà i suoi frutti, anche affidiamo alla vostra preghiera e il successo del nostro incontro. Pace e bene! Grazie a tutti!